Dal monitoraggio condotto dalla Regione Piemonte nella settimana dal 10 al 16 gennaio, la situazione del contagio nelle scuole registra una diminuzione dei focolai e delle quarantene. Questo rispetto alla rilevazione del 28 dicembre scorso. Nel dettaglio, i focolai scendono a 227 in tutto il Piemonte. A Biella sono 10 attualmente. Per quanto riguarda ad esempio la sola città di Biella, l'istituto comprensivo Biella 3 sono 2 le classi in quarantena per 10 giorni. Nella scuola dell'infanzia 2 le classi in quarantena. Alle primarie 6 le classi in attesa di tampone. E per quanto riguarda la scuola secondaria sono 16 le classi su 24 con didattica mista, con almeno un caso di positività. Biella 2 sono 15 le classi chiuse, 53 gli alunni positivi, 70 in quarantena per contatto, 9 i docenti positivi, 6 docenti in quarantena. Ed ancora Biella 1 per quanto riguarda le scuole dell'infanzia, una quarantena fiduciaria, 20 presenti su 24. Un docente sospeso alla Frassati, sono 31 i bambini presenti su 39. Per quanto riguarda le scuole primarie, alla Cromo Cridi su un alunno positivo, 51 presenti su 59. Pietro Micca due positivi, un docente in quarantena fiduciaria e un docente positivo. Una classe in quarantena, tre alunni in quarantena fiduciaria. Sono 86 presenti su 98. Al Vandorno 9 positivi, due quarantene fiduciarie, un docente positivo, 118 presenti su 137. Ed ancora Cossila 1 alunno positivo, 4 docenti positivi, 22 presenti su 34. Al Piazzo 3 alunni positivi, una classe in quarantena, 88 presenti su 103. Scuola secondaria, 22 alunni positivi, 9 quarantene fiduciari, una classe in quarantena, tre docenti positivi, uno in quarantena fiduciaria. E sono 343 gli alunni presenti su 381. Questo era il distretto dell'Istituto Comprensivo San Francesco d'Assisi. Grazie a tutti.